Claudio, da persona non di parte, grossomodo, almeno per quello che riguarda il centro-destra. Riusciamo a fare un'analisi di come soprattutto la Lega, ma anche Forza Italia, hanno avuto i voti in giro per il frutto di Venezia Giulia, perché ad esempio spicca un ottimo dato della Forza Italia a Gorizia con oltre il 20% e allo stesso modo a Trieste spicca un dato della Lega tra i più bassi in regione. Ormai c'è uno smottamento di un'area del centro-destra che una volta votava per Forza Italia e i partiti limitrofi, ormai ci sono tutti quanti focalizzati sulla Lega Nord, sulla Lega. La Lega è diventato finalmente il primo partito di destra in Italia, un partito che è post-fascista, non fascisti come dicono alcuni personaggetti della sinistra. Finalmente abbiamo un partito di destra che è un partito che fa quello che deve fare la destra. E quindi la serietà anche della sua classe dirigente ha fatto sì che ci sia un aumento dei voti e che finalmente si possa parlare di la nascita di un vero centro-destra che nel giro di un anno o due anni nascerà in Italia grazie a un partito come la Lega Nord. Mentre Forza Italia era un partito che era il partito di Berlusconi, infatti è bastato che Berlusconi ristasse in Firenze a Giulia una settimana che praticamente è riuscito a raddoppiare i voti che tutti i sondaggi, parliamoci chiaramente, dava in Forza Italia tra il 6 e l'8%. Berlusconi ha questo appeal soprattutto su un elettorato di un certo tipo e questo va dato atto a Berlusconi che è ancora l'unico capace di essere competitivo oltre a Salvini. Quindi stiamo a vedere quello che succederà sia a livello nazionale che a livello regionale perché non è detto, secondo me, che Federica avrà questa tranquillità all'interno della sua coalizione come tutti pensano. Senti, a Gorizia la Lega è poco sopra il 31, a Trieste è poco sopra il 30, in tante altre zone attorno al 35-40, anzi sembra che Trieste e Gorizia, città, abbiano abbassato il dato complessivo della Lega in regione, nonostante ci siano i vicesinnaci proprio della Lega sia a Trieste che a Gorizia. Se è per questo io credo che la Lega ha avuto, è quasi ironico dire quello che sto dicendo adesso, però è un dato di fatto ed è evidente che secondo me il centro-destra a livello complessivo ha pagato il deterioramento del rapporto dei cittadini di Triestini con Di Piazza che ormai è uno che così sta andando avanti per le sue ma non ha più la gente che aveva una volta, non ha più l'elettorato, non ha più la PIL che aveva una volta e questo lo si vede dalle elezioni regionali, da quello che è successo a Trieste. Mentre a Gorizia Romoli è uno che non so come sia possibile, però Romoli tutti mi dicono che è uno che ha lasciato un'impronta positiva nella città e per cui c'è stato anche un aumento dei voti di Forza Italia. Guardando invece al Partito Democratico, Russo forse è stato all'apice adesso del suo consenso? Non lo so, il PD è capace di distruggere i suoi leader in maniera molto semplice, in maniera quasi imbarazzante, quindi io non lo so quello che succederà adesso con Francesco.